iWall è la soluzione da incasso di ultima generazione facile da utilizzare si adatta perfettamente al design della propria cucina e ti permette di bere in tutta sicurezza acqua fredda liscia e frizzante semplice dotata di interfaccia touchscreen intuitiva erogazione manuale più due porzionature programmabili caraffa o bicchiere altamente personalizzabile dotata di allarme filtro ed è la prima nel proprio settore ad essere dotata anche di allarme esaurimento bombola di co2 smart perché dotata di tecnologia iot bidirezionale implementa auxilia un potente ed esclusivo sistema di controllo da remoto che offre un servizio di assistenza unico ed esclusivo tramite un portale dedicato è possibile personalizzare da remoto il prodotto controllare i litri erogati da ciascuna bevanda programmare il risparmio energetico e ricevere assistenza diretta dal supporto tecnico è inoltre possibile modificare i video e le foto mostrati sullo schermo ecologico il primo e vero contributo per un ambiente plastic free il sistema utilizza il gas ecologico r600a ed ha un basso consumo energetico è inoltre possibile impostare la modalità di risparmio energetico in periodi di minore utilizzo elegante senza compromessi un design minimale che si integra in modo discreto agli altri elettoromestici da incasso della propria cucina plus estremamente silenzioso meno di 38 decibel disponibile in tre versioni acciaio inox vetro nero e nero opaco nessun rubinetto aggiuntivo sul lavello della cucina più ordine nel sottolavello e più spazio in frigo